Ghiaccio assassino, autosbanda e si scontra con un furgone, muore giovane coppia di fidanzati. Tempo di bilanci per la coalizione Uniti per Fano, otto anni di buon governo per la città che amiamo, pronti a continuare la nostra azione politica. Messaggio di auguri del Vescovo Trasarchi alla diocesi e alle istituzioni. Per molti sarà un Natale difficile, ma Dio è con noi, vogliate bene ai cittadini e alla classe operaia. Terza corsia a 14. Ricci, lavori a tempo di record, spiragli per la complanare di Marotta. Ospedale unico a Fosso Segliore, Ricci e Mezzolani, scelta dovuta alla posizione e alla possibile integrazione fra le città. Inaugurato il nuovo impianto per la neve artificiale sul Monte Nerone, si prospetta una grande stagione sciistica. Voglio diventare calciatore, raggiunto uno storico accordo fra l'alma Juventus Fano e i settori giovanili cittadini. La redazione di Oltrefano.it augura a tutti un buon Natale e un felice anno nuovo. Grazie a tutti.